Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Udinese TV. Apriamo quest'edizione con la notizia di un incidente stradale mortale avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 18, con un giovane deceduto e almeno un altro uomo rimasto ferito. Questo lungo l'autostrada A4 nel tratto compreso tra La Tisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste, coinvolti due mezzi pesanti e un'auto. Il sinistro, riferisce Autovie Venete, avvenuto due chilometri dopo il casello di La Tisana nel tratto a tre corsie. In quel momento, precisa Autovie Venete, non c'erano rallentamenti o traffico intenso. L'autostrada non è stata chiusa con circolazione che ha continuato a procedere lungo la corsia di sorpasso. La dinamica è al vaglio della polizia stradale. Sul posto, oltre alla polstrada e al personale medico di Autovie, anche i vigili del fuoco. Tra le principali notizie della giornata, anche i furti che ci sono stati in questi giorni in centro città Udine, a danni di ristoranti e bar, ma poi anche il terremoto in centro Italia, e anche il ponte sul Torre che continua a restare chiuso. Allora, vediamo alcuni dei principali servizi della giornata. C'è chi li ha subiti una volta, chi due o anche più. Abbiamo raccolto testimonianze di paura ed esasperazione di esercenti e commercianti di Udine. In città, in pochi giorni, molti casi di furti e rapine con scasso. È stata avvertita anche in Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale la scossa di terremoto di magnitudo 5.7 che ha fatto tremare violentemente la terra nelle Marche. L'epicentro registrato sulla costa pesarese ad 8 km di profondità. Crepe e distacco di calcinacci da alcuni fabbricati a Fano. Non si segnalano feriti, ma solo tanta paura. Rimarrà chiuso almeno fino a venerdì il ponte sul Torre in attesa della verifica sulla tenuta dei piloni e di nuove piogge che dovrebbero arrivare nelle prossime ore con una possibile nuova piena. Abbiamo intervistato il sindaco di Chiopris Viscone per fare il punto e verificare lo stato dei lavori del nuovo ponte parallelo in costruzione. Anche il Caffè dei Libri in via Poscolli nei giorni scorsi colpito dai malviventi. Ricordiamo che cosa è successo? Allora praticamente i malviventi sono entrati durante la notte dopo che io, essendo stata la chiusura alle 22, ho chiuso, era tutto regolare. Alla mattina al risveglio, quando sono ritornata ad aprire il locale, purtroppo ho trovato la brutta sorpresa di cui la porta praticamente rotta totalmente, hanno penso spinto a calci e non solo, ho trovato pure la cassa vuota in cui sono stati presi il fondo cassa del locale che pare a 250-300 euro. È la prima volta che viene colpito il locale di cui dipende? Sì, sì, per adesso, speriamo che sia primo e l'ultimo, sì, è la prima volta qua. Come commenta anche le notizie degli altri furti, andati a segno o meno, che ci sono stati anche questi ultimissimi giorni qui in Cene? Diciamo che già al mio vicino di casa, Bifi, comunque sono stati già l'anno scorso, a noi no, per fortuna, poi adesso è toccato a noi e di cui a lui di nuovo. Praticamente mi hanno detto che comunque via Poscole negli ultimi due settimane è colpita proprio dai furti, che siano in casa anche nei locali, praticamente è di routine. Io non ho visto nessuno, nel senso che non abbiamo visto nessuno, non so se mi aspettavano quando chiudo, perché poi io essendo da sola la sera ho anche paura. E fa paura adesso ancora di più? Sì, sì, adesso sì, perché comunque non sai mai chi può entrare, essendo comunque che buio arriva presto. Io mi chiudo dentro per fare le pulizie e tutto quanto, però sempre perché noi abbiamo anche un'altra uscita da questa parte, dalla cucina, abbiamo paura di uscire da soli, poi specialmente io donna da sola, è un po' diventa complicata la situazione adesso. L'adrinazione al B, fine la notte tra lunedì e martedì, ripeloghiamo cosa è successo. Mi è suonato l'allarme verso le due di notte e ho subito guardato le telecamere che indicavano la porta dell'ingresso completamente sfondata. In quel momento ho chiamato il 112 e comunque prontamente una pattuglia è arrivata. Nel frattempo siamo entrati, abbiamo fatto un sopralluogo e dopo qualche minuto ci siamo accorti che nella via di fronte alla nostra, nel via del freddo, si appostavano due ragazzi che venivano comunque bloccati subito dalla polizia. Uno è scappato ma insomma dopo qualche minuto l'abbiamo trovato. Poi insomma abbiamo capito che loro si erano nascosti nella via per cercare di aprire la cassa che hanno rubato precedentemente all'interno del ristorante. Vi è capitato un altro caso negli ultimi giorni o comunque negli ultimi mesi? A marzo era capitata la stessa cosa, avevano sforzato l'ingresso e avevano rubato. Quella volta là insomma però ci sono stati più danni perché hanno avuto più tempo di agire e hanno portato via parecchia merce. Come commentiamo dunque la situazione di questi giorni? Ci sono dei locali che sono stati visitati dai ladri anche in piazza 20 Settembre, in via Gorghi, tentativi anche di furro non andati a buon fine. Sicuramente per una città come Udine che è stata sempre una città molto tranquilla credo che la situazione sia abbastanza pesante. C'è troppa gentaglia in giro per le strade, purtroppo io spero che anche i cittadini si accorgano di quello che sta avvenendo. Io ringrazio le forze dell'ordine che sono molto presenti perché comunque in pochi minuti arrivano se c'è qualsiasi problema. Il problema purtroppo è che la magistratura non applica delle regole forti perché ormai qua si è capito che loro sanno che venendo in Italia possono fare quel che vogliono perché non vengono puniti. Ci risulta comunque che uno dei due ragazzi che ha agito da noi l'altra notte abbia già dei precedenti e anche negli ultimi mesi. Il lavoro da fare in questo momento è proprio mettere in sicurezza i pilastri con altra ghiaia, riempire quello che era stato portato via dalle acque. Sì, attendiamo anche che partano i lavori della briglia, si spera abbastanza scelermente che a questo punto si possa accelerare quello che è un eventuale appalto per una questione di sicurezza. Poi la parte dei piloni e delle fondamenta dovrà essere di volta in volta probabilmente ricontrollato ad ogni piena e riverificato. Di questo devo essere sincera, sono contenta perché a me sono sempre state date le certezze che il ponte era sotto controllo, però adesso c'è una visibilità di questi controlli da parte dei cittadini che forse servono un attimino a tranquillizzarli. Ponte di fine anni 60 che sta aspettando il suo successore, quali sono le prospettive? Beh, credo sia successo di tutto, insomma quando si parla di cigno nero direi che il ponte è un esempio abbastanza importante. Attualmente i lavori sono ripresi, sono andati avanti molto celermente con la sostituzione dei tubi, li abbiamo visti lavorare tutta l'estate, addirittura praticamente quasi a ferragosto con temperature impossibili ma hanno lavorato. Mi risulta che il lavoro fatto fino adesso sia già certificato, le saldature siano già state anche certificate, chiaramente c'è ancora lavoro da fare e finché i tubi non verranno sostituiti completamente non si potrà proseguire con la parte sopra di getti, caldane, asfaltature e successivi con l'Audi. Vediamo ora altri fatti di cronaca riassunti nelle Flash News ma anche alcuni servizi riguardanti il Consiglio regionale e la Camera di Commercio di Pordenone Udine. Quattro giovani sono stati denunciati nell'ambito dei controlli effettuati dalla polizia martedì nella zona del Parco Moretti e dell'autostazione. In merito alla prima, un 19enne straniero è stato deferito all'autorità giudiziaria per il possesso ingiustificato di un coltello a farfalla e un coetaneo senza fissa dimora per detenzione illecita di sostanza stupefacente. È stato trovato in possesso di due dosi da 0,5 grammi ciascuna di cocaina. Riguardo invece la zona dell'autostazione, è denunciato un 33enne straniero controllato in via Leopardi, accusato di aver sottratto qualche ora prima un paio di scarpe all'interno di un locale e un 27enne, sempre straniero, per minacce. Pesantemente danneggiata dai vandali, la sala bullying di Via Bassa a tricesimo, chiusa da tempo, danni per almeno 150 mila euro stando alle prime stime. Un'incursione scoperta nella mattinata dal titolare della struttura, già danneggiata da vandali in passato. Sul caso indagano i carabinieri. Nel comune di Premariacco, uno o più ladri, si sono introdotti la scorsa notte nell'abitazione di una signora di circa 78 anni, vedova, che stava dormendo e non si accorta di nulla. Pare siano riusciti a entrare senza difficoltà, senza forzare porte né finestre. I malviventi si sono impossessati del portafoglio della signora. Un uomo su cui pendeva un ordine di carcerazione messo dal tribunale di Pordenone è stato rintracciato lunedì in Piemonte dalla polizia di frontiera di Domodossola. Portato in carcere a Verbagna, come riferisce l'Ansa, dovrà scontare la pena di circa due anni per reati di minacce, danneggiamento e atti persecutori. Oggi le notizie importanti per il Friuli Venezia Giulia sono due. Intanto che conquistiamo un pezzo fondamentale della nostra autonomia, un pezzo che ci era stato concesso con gli accordi Tria-Fedriga nel 2019, ma che oggi portiamo a compimento con il ricepimento di una normativa che è fondamentale, avere l'autonomia fiscale sul nostro territorio è la vera autonomia, è l'essenza dell'autonomia. Questo ci permette di fare scelte fiscali, di politica fiscale in completa autonomia rispondendo all'esigenza del territorio, ed in particolare l'emendamento che abbassa per tutti gli immobili strumentali e le attività economiche da, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo per il mondo delle imprese, una risposta importante a quel settore economico e rende la regione Friuli Venezia Giulia attrattiva nei confronti dell'intero sistema paese. Ricordiamo che oltre ai confini del Friuli Venezia Giulia quegli immobili hanno un'aliquota massima che è a 10,6%, noi ce l'abbiamo al 9,6% il massimo, ma con quella manovra va al 9,6% dando un ulteriore contributo ai comuni che decidono di autonomia ed abbassarla ancora all'8,6% con un contributo del 70% della regione. Quello che lo Stato ci aveva già dato a livello di accatastamenti, a livello di classi accatastali e tutto, però non la pagheremo più lo Stato, ma la pagheremo la regione, cioè la pagheremo al Comune e la regione pagherà del termine dello Stato, ecco, pertanto non cambia niente, cambia il nome che non si chiamerà più IMU, ma si chiamerà IRIA. Abbiamo dato il nostro assenso alla nuova imposta regionale sugli immobili, considerandola un'opportunità per la regione e per l'autonomia regionale. Abbiamo cercato di introdurre delle novità in questa imposta che viene tradotta pedissequamente dalla vecchia imposta statale diventando una nuova imposta regionale, purtroppo l'assessore e quindi la Giunta ci hanno chiesto di ritirare i nostri emendamenti. Noi siamo assolutamente convinti che nel proseguo della vita di questa imposta, regionalizzata, i nostri emendamenti torneranno utili e verranno riproposti. Al centro dell'approfondimento odierno alla Camera di Commercio di Porto e Nonneudine, l'Istituto della Mediazione, uno strumento alternativo alla giustizia ordinaria. Questo è uno strumento messo a disposizione delle imprese e anche del cittadino che permette di risolvere velocemente qualsiasi tipo di contenzioso, che sia di natura civile o di natura commerciale. Molto semplice, basta rivolgersi al nostro sportello. I nostri uffici sono a disposizione dell'utenza, negli orari d'ufficio, basta prendere appuntamento, noi ci siamo. Tutta l'attività viene erogata sotto il controllo del Ministero di Grazia e Giustizia. Quali sono i principali vantaggi di questo strumento rispetto ad altre possibilità? Beh, innanzitutto la velocità, la semplicità perché in questi procedimenti le parti diventano sono protagoniste delle loro soluzioni e le raggiungono con il supporto di un pool di professionisti. Per cui non subiscono la sentenza di un giudice calata dall'alto, ma costruiscono loro il loro accordo in base agli interessi che possono emergere nel corso della procedura. Nella procedura però ci devono essere delle caratteristiche per potersi avvalere di questo strumento. Ma guardi, qualsiasi tipo di procedura, purché riguardi diritti che sono nella disponibilità delle parti, per cui sia in materia di diritti civili, successioni, servitù di passaggio, divisioni ereditarie, oppure anche rapporti di natura commerciale, contratti d'appalto, contratti d'opera, fino anche alla tutela del consumatore, per esempio il telefonino piuttosto che l'elettrodomestico che non funziona. Quanta consapevolezza e conoscenza c'è dunque qua nel territorio di questo strumento? Ecco, purtroppo poca ed è per questo che abbiamo organizzato questa iniziativa, perché a nostro avviso ogni cittadino dovrebbe conoscere l'opportunità di risolvere velocemente i piccoli contenziosi rivolgendosi alla Camera di Commercio del proprio territorio. Rispetto alla situazione nazionale vi rendiamo conto appunto dell'incontro che c'è stato oggi a Palazzo Chigi, il primo incontro tra la Premier Giorgia Meloni e i referenti dei sindacati, presenti appunto i rappresentanti di CGL, CISL, UIL e UGL. Il messaggio consegnato loro dalla Premier sostanzialmente, come riferisce l'Ansa, è stato rispetto e richiesta di collaborazione senza preconcetti in nome dell'interesse generale nel momento più difficile della storia della Repubblica e poi il lavoro come priorità delle priorità, ha detto Meloni, insieme a un allarme sulle pensioni future che rischiano di essere inesistenti. Tra i vari aspetti Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, chiede di detassare subito le tredicesime. E noi ora riascoltiamo un rapido commento del segretario generale della CGL Maurizio Landini. Abbiamo indicato la necessità di andare verso un rinnovo dei contratti perché il 50% dei lavoratori nel nostro paese è senza contratti a partire naturalmente per quello che riguarda il governo di completare il rinnovo dei contratti anche del settore pubblico. Ecco, questo insieme di questioni ed altre che abbiamo a quel tavolo indicato, per essere molto concreto, oltre ad una disponibilità ad un confronto, noi oggi non siamo in grado di poter dire nulla perché risposte di merito non sono state ancora date. Abbiamo rivendicato di poter discutere prima che facciano il decreto definitivo e che facciano la legge di bilancio per capire a quel punto loro che cosa propongono. Vedremo se questo avverrà e valuteremo naturalmente gli atti che sono stati messi in campo. Come ricorda l'Ansa anche il ministro dell'economia Giorgetti ha annunciato al Parlamento il varo del decreto contro il caro bollette nel consiglio dei ministri di domani, giovedì. Nella manovra, ricorda appunto l'Ansa tra i vari punti, premi esentasse per chi assume, tregua sul fisco, flat tax incrementale, riforma del reddito di cittadinanza e dei bonus. Sulle pensioni inoltre dei cittadini il governo ha disposto un adeguamento pari a un più 7,3% a partire dal 1 gennaio 2023. A firmare il decreto è stato proprio il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Lo si legge in una nota secondo cui l'aumento è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall'Istat lo scorso 3 novembre. E a proposito della situazione degli italiani in merito al mercato del lavoro e anche dei consumi, vediamo ora due servizi a cura dell'Ansa. Una nuova attivazione di contratto su sette nel 2021 era a tempo indeterminato a fronte di una larghissima maggioranza di altre tipologie di rapporto di lavoro. Secondo il rapporto INAP presentato alla Camera, il mercato del lavoro nel nostro paese appare ancora intrappolato nella precarietà alimentando la spirale negativa a bassa produttività, bassi salari. Secondo l'indagine le attivazioni con contratto stabile erano il 14,8% del totale, in peggioramento rispetto al 2020 e al 2019 e in leggero miglioramento sul 2018, prima che fosse introdotto il decreto dignità. Il tempo determinato nell'anno riguardava il 69,8% delle nuove attivazioni. Nell'insieme il lavoro atipico, ovvero tutte quelle forme di contratto diverse dalle contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, rappresenta l'83% delle nuove attivazioni con un aumento delle 34% negli ultimi 12 anni. L'inflazione è una fata morgana, capace di aumentare le vendite e nello stesso tempo ridurre i pacchi della spesa. Un effetto ottico che dura da mesi ma che non affascina le famiglie italiane e nemmeno le imprese e le organizzazioni dei consumatori che guardano con preoccupazione a ciò che accadrà sotto Natale. Se anche per il mese di settembre l'Istat ha stimato un aumento delle vendite in valore, a guardare le quantità, cioè i volumi, i consumi sono diminuiti delle 2,7% rispetto a un anno fa. La magia si trasforma poi in malvagio sortilegio se si guarda al settore alimentare. Qui i consumi sembrano schizzare di più 6,8% se se ne misura il valore, ma nei fatti crollano delle 4,5% se si considerano le quantità. Una dieta forzata che peggiora se si confrontano i dati di settembre con i dati di agosto e di luglio. Veniamo ora allo sport. L'Udinese si aggiudica il quinto pareggio nelle ultime sei giornate di campionato e si appresta ad affrontare l'inarrestabile Napoli nell'ultima gara prima della sosta. Intanto il Pordenone, dopo la vittoria schiacciante contro l'Ecco, prepara la gara di Piacenza in programma per sabato. L'Udinese si traveste da Mister X e continua in anellare pareggi. Alla Spezia arriva il quinto nelle ultime sei partite di campionato, che aumenta l'astinenza da vittorie, con l'ultima datata 3 ottobre contro il Verona di Gabriele Cioffi al Bentegodi. Da un ex all'altro a Luca Gotti riesce il colpo di frenare l'Udinese, che, va detto rispetto a quella di un mese fa abbondante, è di certo meno brillante. Lo è soprattutto per via delle tantissime assenze che stanno condizionando la squadra. E in quest'ottica hanno avuto il loro peso le mancanze dei vari Bekao, Udoge, Makengo, senza dimenticare il lungodeggente Masina. E infatti ancora di più è risaltata la prova del recuperato Lovric, autore dell'assist a success nel gol annullato per centimetri di fuorigioco del nigeriano e poi abile finalizzatore proprio dell'ennesimo assist del numero 7. Una partita strana quella in terra rigure, in cui l'Udinese era andata in vantaggio, poi sotto per una disattenzione di Pereira in copertura e che infine è pervenuta al pari dopo un clamoroso assalto dei padroni di casa, i quali erano andati molto vicini al gol del Rabduppio, che sarebbe stato forse un colpo da KO. In tutto questo però, al di là del dato fisico, Sottil ha sottolineato come l'atteggiamento del primo tempo lo avesse fatto arrabbiare, detto in termini più coloriti. La ripresa ha visto infatti maggiore equilibrio con Silvestri che non ha dovuto fare gli straordinari e anzi al 93esimo, tanto per cambiare, è stata la squadra friulana ad avere la chance del colpaccio. Il siruro di Wallace si è però stampato sulla traversa, ha zotbattuto e ha fatto maledire la sfortuna che avrebbe potuto regalare al brasiliano la gioia più grande alla sua centesima in A con l'Udinese. Per ora di gioia grande ci si tiene quella futura di Lovric che diventerà papà nel 2023 e che dedica il gol al nascituro. La lieve flessione dell'Udinese continua a produrre punti che ora sono addirittura 24 e non è un caso che Torino, Spezia, Cremonese siano squadre che stanno facendo sudare tutti, compreso il Milan, campione d'Italia. Tutto ciò impreziosisce il percorso di una squadra, quella di Sottil, che nella peggiore delle ipotesi chiuderà il 2022 con un saldo di punti di più 8 rispetto allo scorso anno, anche perché sulla carta sarà proibitivo fare punti nell'ultima dell'anno solare in casa del lanciatissimo Napoli di Spalletti, che si è liberato non senza difficoltà dell'Empoli. L'Udinese venderà cara la pelle contro ogni difficoltà e proverà a guastare il periodo magico di una squadra che autorevolmente si sta candidando a vincere il prossimo Scudetto. Dimostrazione di tenacia e forza fisica o morale, resistere ad ogni costo, mostrarsi decisi senza limiti. Questa è la definizione di prova di forza, ma probabilmente per far capire il significato di questa espressione sarebbe anche bastato mostrare le immagini della sfida andata in scena domenica tra Pordenone e Lecco. Una gara in cui si sfidavano le due seconde della classe che cercavano un successo importante per far decollare in maniera definitiva la loro stagione e anche per mettere pressione alla capolista arenate. Ebbene, alla Tech Hill di Lignano il match è terminato col punteggio di 5-0 per il Pordenone che ha asfaltato letteralmente il Lecco facendo capire ancora una volta quali sono gli obiettivi concreti del club del presidente Lovisa. È la terza vittoria nelle ultime quattro partite, la seconda consecutiva e soprattutto la seconda di fila in cui Pinato e compagni segnano 5 gol, la Palissiano. Sottolineare che ora i Ramarri vantano il miglior attacco del torneo con 21 gol fatti e grazie al pareggio del Renate bloccato sullo 0-0 della Pergolettese i nero-verdi sono saliti adesso al primo posto della graduatoria. È presto ovviamente per fare proclami perché adesso serve una sola cosa, la continuità. Bisogna evitare di farsi prendere da facili entusiasmi e restare concentrati. Sabato alle 17.30 c'è la sfida in trasferta contro il Piacenza, squadra in difficoltà ma che ha battuto il manto va nell'ultimo turno e quindi non va sottovalutata. Servirà un bel Pordenone per centrare il terzo successo consecutivo. Con questi servizi si conclude questa edizione del nostro telegiornale, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.